Due cani bianchi. Nel 2015 abitavo da poco in una piccola casetta di campagna dove abito tuttora e avevo da poco una bicicletta. Feci così una lunga pedalata per le molte stradine di campagna che non conoscevo. Percorsi una stradina sterrata domandandomi dove finisse e dietro una curva trovai una casa colonica abbandonata. Prosegui e mi trovai nella corte nel retro della casa dove due cani bianchi di razza maremmana mi abbagliarono all'improvviso impaorendomi. In quell'istante pensai che mi aggredissero ma mi accorsi che erano legati con catene di ferro e quindi non potevano raggiungermi. Osservai meglio i due cani sporchi e con il pelo arruffato lasciati lì nella corte dell'abitazione abbandonata. Mi domandai chi fosse il proprietario che li aveva lasciati in quello stato e un forte moto interiore mi fece venire in mente di slegarli poiché li vedevo molto sofferenti. Ma ascoltai la mente e non mi avvicinai perché avrei rischiato grosso. Tornai a casa e nei due giorni successivi mi rimase la pena per quei poveri animali privati brutalmente della loro libertà. Pensai anche a delle soluzioni chiamare un ente protezioni animali segnalare la cosa al comune di residenza ma nel frattempo un moto interiore mi raffigurava mentre strappavo la catena ai poveri animali per renderli liberi. Amo molto la libertà e per me era una sofferenza vederli in quello stato. Dopo non più di tre giorni in cui telefonai ad un amico per vedere come poteva aiutare questi due cani ero all'esterno della casetta di campagna insieme al mio compagno che all'improvviso mi chiama e mi dice. Annalisa guarda ci sono due animali bianchi nel mezzo del campo di fronte al nostro diviso da una rete. Si dirigono qui ma cosa sono? Mi avvicino ma vedo un po' male e sono miope. Rimango a guardare questi animali che si dirigono verso di noi. Arrivano proprio davanti a me che stavo in piedi vicino alla rete di proprietà e mi accorgo che sono proprio loro. I due cani che avevo visto pochi giorni prima con la catena di ferro di velta. Io rimango di stucco. I cani guaiscono, mi guardano e si gettano a terra dietro la rete di fronte a me come per volere le coccole. Purtroppo non ho potuto raggiungerli a causa della recensione molto estesa. ho pensato spesso ai due cani bianchi e come il mio pensiero si fosse davvero materializzato con la catena di velta proprio come avevo immaginato di fare e con entrambi i cani che erano arrivati proprio davanti a me. Negli anni a venire ho riflettuto ancora e ho capito che in noi c'è un potere di materializzazione. Il fatto mi ha poi richiamato alla mente casi analoghi per cui non mi ero mai data una spiegazione e che nel mio caso funziona quando la mente si accorda con il potere emotivo che ha bisogno di due motori per funzionare. La volontà della mente e il desiderio potente. Grazie. 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 Grazie.